signori siamo in questo video in direttura d'arrivo qua dicono che ne mancano due million dracchius allora vabbè allora è questo grazie e questo vabbè nel castor andiamo indietro penso che quello dello scorso video penso che era più difficile molla dobbiamo andare madonna man bocca al lupo ricchiato quanto è lungo vabbè ci vediamo già la guarda che bella questi guarda come l'hanno fatta bella l'hanno fatta bella comunque qua dicono che ne mancavano che ne mancano ancora due di sole questa qua più un'altra io io ho visto soltanto questa per ora perché tutte le altre l'abbiamo giustamente fatte po po bo vabbè forse forse l'altra sta nel nether dovevo fare il portale bo poi dopo vediamo questa è una cassa che ovviamente non si vabbè si faccia così è grandissimo che cazzo è la targhetta non mi serve la cassa sto già pieno di casse grande vabbè questi blocchi li metto qua poi dopo me li riprende mo fammi scrivere il titolo allora benvenuti su milioni o a milioni un po che cazzo è sta roba per 6 di generale ma la fangola c'è sì c'è sì perché ita beh ma sto che jake in e poi ripeto qua basta che mi ammazzo allora tutto questo come cazzo si chiama vabbè questo non so che serve però io non ho mai credito che serva questo il carbone non c'ho voglia di prenderlo perché mo è sto jake in no ma non è che mi serva a qualcosa sì ma il nesso sì perché in realtà ci sono si non spano nessuno vabbè i blocchi e regalo migliore che uno può fare dentro queste isole chi cazzo è gesù cristo sta arrivando arriva arriva e mo questo io non l'ho messa se va chiaro che cazzo è la torre di babel eeeh sub se vabbè vabbè poi vabbè poi tutti questi blocchi li andiamo a mettere dentro l'ender chest ma io li posso prendere no che cazzo senti fan fan no vabbè questi ora mi servono non c'ho tanta voglia di fare il pillar perché poi met che cado c'è fè nald pillar ah no vabbè c'è scusa posso sfruttare questo no se manco cazzo eh forgot beh ci vediamo quanto cazzo mi sono tolto le palle allora senti io ci ho ripensato fammi farci tanto i blocchi ce li ho fammi fare così che c'è la torre di babel paravedere la torre del mortcrest allora signori siamo quasi di vertigi eh bella domanda poi come cazzo torno vabbè semplicemente mi butto tanto l'inventare non lo perdo che cazzo è due no buonasera non c'è uno cazzo ehi sì scusate ma con sotto che cazzo lo stava vabbè senti fammi fare mi butto in modo senza morire quindi mi butto grandissimo tutto qua qua sempre utile sempre utile i blocchi e dove giusto è una spugna allora signori siamo arrivati ci siamo calati là non so perché è sparito il pavimento allora facciamola calare bene l'acqua e poi me la riprendo signori facciamo come facevano gli antichi tutto giusto è? ah crei stare avate si si capite ma una torcia da schifo faccio così eh tanto per dire vabbè tanto tra poco si leva l'acqua si si capite io ho fatto io ho fatto tutto sto casino e poi stai a parte fammi accendere la luce che nel video non ci vedo un cazzo più che altro per il video poi ma metto qua sta luce così già non sparano più fammi li togli ma questi che cazzo sono satan in persona oh crei stare avate ah questi blocchi tu lo sai che sono la cosa più utile che c'è in questo momento così ah questo che cazzo è forza 2 vabbè va a fangutolare la forza va a fangutolare la forza io ho fatto tutto sto casino per arrivare subito io faccio la meglio cosa grandissimo allora andiamo a piazzare i million E mo la domanda è l'altro dove cazzo è Dove cazzo è million Million Adesso è 2 million 1 million Grandissimo E mo l'altro dove cazzo è Cioè scusami Cioè scusami Così tanto per dire Quella l'ho fatta perché poi tu capi Tu riconosci quelle che ho fatto Perché sono collegate dai ponti Quella l'ho fatta quella anche Quella ci sono stati prima questa pure Questa pure Forse l'altra Isola è questa qua ma Ho già visto off camera Ma non c'è un cazzo Quella pure questa è stata la seconda Che abbiamo fatto In questa Isola ho già Cercato non c'è niente Perché sarebbe troppo scontato Quella ci siamo appena andati Questa 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 L'abbiamo fatta Senti io faccio una cosa Pure per togliermi Il dubbio La cazzo è Centi Dieci ne bastano Dieci me ne bastano Non me ne servono sette miliardi Poi giustamente con Quattro blocchi da appoggio Uno due tre quattro Così facciamo Quella Facciamo quella A risparmio Vabbè senti Qua toglio No anzi 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 facciamo la meglio cosa Senza che dobbiamo fare di Un blocco Facciamo così Cos'è Uno due tre E quattro Uno due tre Quattro Vabbè Allora Vediamo E' un normale mondo E' un mondo Normalissimo E' un normalissimo mondo Però noi lo possiamo sfruttare Per fare così Visto che questi Si scavano come burro Vabbè Vabbè Vabbè